Per il suo sedicesimo compleanno una madre portò suo figlio in un negozio di chitarre Mentre il commesso aprì la custodia per mostrargliela Sua madre gli spiegò il significato emotivo di quella chitarra Suo padre acquistò quella chitarra nel mese di febbraio e la mise in attesa fino al suo compleanno Poi scomparve in modo inaspettato nel mese di aprile